Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale ha presentato il calendario 2016, per ciascun mese una battaglia condotta nell'anno che volge al termine circa le vicissitudini nazionali e campane, dalla crisi delle banche all'opposizione al governatore De Luca e al sindaco De Magistris, ribadendo i punti cardine del partito come la sicurezza, ascoltiamo l'onorevole Marcello Taglialatela e il presidente cittadino Luigi Rispoli. Per noi il 2016 vuole essere un anno di vittorie, ma speriamo soprattutto che sia un anno di riscatto per la città. Il calendario rappresenta le battaglie che sono state portate avanti nei 12 mesi del 2015, ovviamente convinti che avremo la possibilità di difendere gli interessi della città e del meridione ancora per i prossimi anni. Lo presentiamo in un momento in cui stiamo per iniziare questo percorso che ci porterà alle prossime elezioni comunali, dove Fratelli d'Italia conta ancora una volta di essere protagonista all'interno del centro-destra e all'interno di quella che sarà la politica cittadina, perché da gennaio in poi inizieremo il giro delle municipalità, portando sul territorio tutto il nostro programma e quelle che sono le soluzioni ai problemi che quotidianamente vivono i napoletani. Alla presentazione è intervenuto il consigliere regionale Luciano Passariello e il dirigente nazionale Luciano Schifone. Questo calendario ha un segnale doppio, uno è per non dimenticare quelle che sono le battaglie fatte, ma anche quelle da completare. Ed è anche un impegno che il partito sta prendendo, perché queste battaglie sono le battaglie che se portate a termine possono cambiare la faccia di questa regione e di questa città. Il Napoli dovrà scegliere la possibilità di poter cambiare, di poter abbandonare le vecchie logiche che hanno portato questa città al degrado per costruire un futuro migliore e un futuro possibile per i nostri giovani.